Ciao, in questo video parlo di uno degli inquinanti purtroppo molto presenti sia nell'acqua di ribinetto sia in quella di bottiglia, ovvero l'arsenico. L'arsenico, come vediamo in foto, è l'elemento chimico di numero atomico 33. Il suo simbolo è AS, è un semi-metallo che si presenta in tre forme allotropiche diverse, gialla, nera e grigia. I suoi composti hanno trovato impiego in passato negli erbicidi e negli insetticidi e inoltre usato in alcune leghe. L'arsenico è uno degli elementi più tossici che esistono in natura e si presenta in acqua in forma disciolta. Gli esseri umani ne possono essere esposti attraverso il cibo, l'acqua e l'aria. L'arsenico è in colore, in sapore e in odore, per cui non ci sono segnali organolettici che l'acqua ne sia contaminata. L'unico modo per sapere se e in che misura è presente l'arsenico è sottoporre l'acqua ad un'analisi di laboratorio. Considerato che non viene smaltito completamente dal nostro organismo, la sua assunzione prolungata nel tempo può avere gravi effetti sulla salute. L'assunzione cronica di arsenico, soprattutto attraverso acqua contaminata, è stata posta dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro come elemento in diretta correlazione con molte patologie oncologiche e quale è responsabile di numerose altre patologie cardiovascolari, ematologiche, neurologiche e dermatologiche. Ti sei mai chiesto quanto arsenico c'è nell'acqua che bevi? Purtroppo più di 52 comuni in Italia, il primo gennaio del 2013, hanno dovuto chiudere l'erogazione dell'acqua potabile per eccesso di arsenico, dopo una proroga durata 12 anni, concessa dalla comunità europea. Questo vuol dire che per 12 anni, forse anche di più, i cittadini di questi comuni hanno bevoluto acqua all'arsenico, oltre i limiti ammissibili. E l'arsenico non si toglie con la bollitura dell'acqua, quindi se non l'hanno bevuto, l'hanno sicuramente mangiato. Per le acque destinate al consumo umano, l'Unione Europea, con la direttiva 9883 CE, ha imposto un limite massimo di 10 microgrammi per litro, al di sotto della quale l'acqua può considerarsi sicura. In Italia tale direttiva è stata ricepita dal decreto legislativo 31 del 2 febbraio 2001, ma nella foto vediamo come per brevi periodi il limite può essere portato a 20 microgrammi per litro. Se si raggiungono i 30 microgrammi per litro, possono insorgere i rischi di contrarre malattie, come alcune forme di cancro. Purtroppo il limite della deroga in quei 52 comuni italiani era di 50 microgrammi per litro e per questa assunzione di arsenico è andata avanti per anni, causando chissà quanti danni. Molte persone si sentono al sicuro perché comprano l'acqua in bottiglia, non sapendo che la maggior parte di queste acque contengono arsenico, anche in piccole quantità, tutti i giorni assimilano arsenico. Nella foto possiamo vedere quanto arsenico contengono alcune marche, anche famose, di acque in bottiglia. Cosa importante da sapere è che la quantità di arsenico non deve essere riportata in etichetta e possono darlo da bere fino ai limiti stabiliti prima che prendano provvedimenti. Quindi è inutile cercare un'altra marca, bisogna pensare a una soluzione più efficace e sicura. La dearsenificazione è possibile con un sistema di depurazione che sfrutta le capacità da parte di particolari idrossidi ferrici di trattenere l'arsenico. In pratica consiste in un processo di filtrazione che utilizza un prodotto specifico di produzione della Bayer AG, la Bioxide E33, che è in grado di garantire la rimozione fino al 99% dell'arsenico o comunque di riportarlo entro i limiti stabiliti dalla legge. Si utilizzano i contenitori di cui ho parlato nel video 8 del ciclo sulle diverse modalità di filtrazione. Questa modalità di filtraggio non necessita di alcuna rigenerazione, però ha bisogno di un periodico contro lavaggio per ripristinare il letto filtrante. La Bioxide E33 non rilascia sostanze tossiche in acqua e la sua durata dipende dalla quantità di arsenico presente nell'acqua e da altri parametri chimici per i quali consigliabili un'analisi ogni 6 mesi e sono, si dice, pH, fosfati, ferro, manganese, solfati, vanadio, mobildeno e selenio. Oltre all'utilizzo della Bioxide E33, per dipunare l'acqua dell'arsenico è possibile impiegare un sistema ad osmosi inversa, di cui ho parlato nel video 7 del ciclo sulle diverse modalità di filtrazione. L'osmosi inversa è una tecnologia in grado di rimuovere completamente l'elemento tossico, semplificando il processo rispetto alla bioxide e garantendo un'acqua priva anche da molti altri inquinanti. È possibile installare filtri di bioxide o un impianto d'osmosi inversa sia per eliminare l'arsenico da tutta l'acqua di casa, sia solo per l'acqua usata da per cucinare. Parlando dell'arsenico, penso a tutte quelle persone che pensano che l'osmosi sia pericolosa, perché toglie i sali minerali dall'acqua e quindi preferisce bersi l'arsenico e molti altri inquinanti. Alcune volte faccio veramente fatica a capire i ragionamenti di alcuni individui, però sono per la libertà di espressione e quindi se vi piace bere gli inquinanti, bevetevi lì pure. Bene, con l'arsenico abbiamo finito. Se avete domande scrivetemi o telefonatemi. Vi ringrazio per l'attenzione che vi avete dedicato e vi aspetto al prossimo video. Ciao!